ciao ragazzi sono gustosa eva la mela che tenta e sono la più buona del mondo perché sono nata qui tra queste belle montagne del trentino respiro l'aria fresca delle vallate io sono buona cruda cotta nei dolci ma anche secca sì proprio secca o meglio disidratata adesso vi insegno come si fa è molto semplice prendete delle mele lavatele per bene eliminate il dorso con l'apposito attrezzo fatto questo vanno affettate così in questo modo gli anelli che risultano stendeteli sui ripiani di una essicatrice come vedete fare leggermente sovrapposti se volete così ce ne stanno di più sistemate il tutto nella essicatrice è via l'aria tiepida disidraterà in sei otto ore tutto il contenuto sarebbe importante ogni tanto rimescolare i ripiani e magari risistemare le fettine in modo da uniformare l'essicazione alla fine guardate che meraviglia potete scegliere se le volete morbidi o croccanti come queste quando sono gustose buon appetito guten appetit ragazzi ciao 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 ciao